Io voglio sentire adesso il professor Montanari perché ci interessa anche un altro aspetto di Giorgia Meloni perché ieri la Meloni ha varato una nuova rubrica sui social che si chiama gli appunti di Giorgia. Allora al quotidiano La Repubblica la stessa Meloni ha detto che intende restare se stessa e non dare l'idea che è cambiata perché adesso sta a Palazzo Chigi. È vero che non è cambiata Montanari o è cambiata invece? Il problema è che è cambiata oggettivamente. La Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio come vorrebbe sentirsi chiamare lei è cambiata, ha un ruolo istituzionale e questo è un tentativo invece di continuare ad avere una comunicazione di tipo diverso, legittima, si chiama propaganda, lo fanno tutti, l'hanno sempre fatto tutti e però per il governo parlano gli atti, parlano i messaggi, parlano le cose che fa. Per questo, ritornando a prima, quello che ho detto anch'io, il treno corre sul binario obbligato, ma senza nemmeno voler nascondere il disappunto di doverlo fare, ma anzi a fischio spiegato si dice benissimo così, lo stato delle cose è questo, non si tassa la rendita, non si redistribuisce la ricchezza, i ricchi saranno sempre più ricchi, i poveri più poveri e noi sta benissimo così, anzi ci sembra giusto perché come ha detto nel discorso di insediamento non disturbiamo chi fa. Ora può fare tutti gli appunti che vuole. Oggi nella mia Firenze, il liceo in cui ho studiato, che gli studenti avevano occupato sacrosantamente contro il ministro dell'istruzione le sue dichiarazioni folli sull'umiliazione come metodo scolastico, è stato sgombrato dalla polizia che ha bloccato un'intera via, sembrava che ci fossero non so quali terroristi. È questa la comunicazione, è questo il paese che cambia. Oppure, con tutto il rispetto per Giulio che è qua presente, nominare un giornalista amico presidente di un museo, esattamente come l'ha fatto la sinistra con la Melandri. Questi sono fatti, sono fatti che ciascuno valuterà. Poi, diciamo, nell'agenda uno può dire quello che gli pare, c'è l'agenda Draghi e gli appunti di Giulio. Però la sostanza è degli atti e a me sembra che nei fatti cambi poco, lo stile è ancora peggiore, se possibile. Allora, intanto diritto di replica Alessandro Giulio, che appunto è da quanti giorni il nuovo presidente del Museo Maxi di Roma. Proprio perché mi insedio il 12 non volevo concentrare le riflessioni sul Maxi per rispetto alla presidente. No, replico, nel senso che, tra l'altro, la sua considerazione è Giulio uguale Melandri, diciamolo chiaramente, l'ho anche scritto. Io sostengo che il ministro San Giuliano, posso parlare? Posso, posso, posso. Il ministro San Giuliano credo che abbia pensato che io sia in grado di realizzare o inverare ciò che c'è scritto nello statuto del Maxi, che il professor Montanari forse non conosce o comunque sia, magari non ha letto bene, e che parla di un polo culturale che ha a che vedere con le arti, che ha a che vedere con l'inclusione, che ha a che vedere con la possibilità del confronto tra culture, che ha a che vedere con la valorizzazione delle arti in funzione della grande storia patrimoniale, culturale, artistica, nazionale. E quindi? E quindi sei la persona giusta al posto giusto? Dopodiché io spero di smentire il professor Montanari con i fatti, su tutti questi aspetti, è logico che mi si attenda alla prova dei fatti, è anche logico che ci siano dei pregiudizi, però... Infatti è già diventato insonne adesso, Giulio, perché è il metodo che non funziona. Vediamo i risultati. No, no, ma è il metodo che non funziona. Come io criticai la nomina di Giovanna Melandri? Io rispetto... Va bene, adesso non parliamo della Melandri che non è presente, eccetera. Massimo Cacciari.